Ancora a deserto il bando per i collegamenti marittimi con le isole minori, ce ne parla Salvatore Carboni. Ancora una volta nessuna compagnia si è fatta avanti per il bando di concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e San Pietro. E il quarto tentativo fallito dal 2022 a comunicarlo è stata l'assessore regionale dei trasporti Barbara Manca che ha espresso preoccupazione per la situazione del mercato marittimo degli ultimi anni. Non è una novità, ha dichiarato l'assessore, ma il servizio sarà comunque garantito senza interruzioni anche se la scadenza dell'attuale contratto è prevista per il 31 dicembre 2024. Nonostante le ingenti risorse stanziate pari a oltre 26 milioni di euro per ogni anno di servizio e gli sforzi per attrare operatori anche dall'estero, il bando è andato nuovamente deserto. L'assessore ha sottolineato che le difficoltà del settore marittimo sono evidenti e che servono soluzioni condivise a livello nazionale. Tra queste l'intenzione di coinvolgere altre regioni come Toscana, Sicilia, Lazio e Campania che affrontano sfide simili. La mancanza di collegamenti regolari potrebbe avere pesanti ricadute sulla vita quotidiana e sulle economie locali delle isole, compromettendo inoltre la mobilità dei residenti. La regione Sardegna ha anche intenzione di confrontarsi con l'autorità di regolazione dei trasporti per valutare le criticità delle procedure e cercare nuove formule per risolvere la situazione, evitando di dover ricorrere a misure emergenziali.